Quello di cui voglio parlare è la potenza delle immagini, solamente in termini di contributo emotivo all'espressione di un messaggio, ma in una forma un po' più particolare relativamente alle più moderne licenze che oggi ci permettono di esprimere con le nostre immagini quello che vogliamo dire, assicurando nello stesso tempo che nel momento in cui altre persone fossero interessate al riutilizzo dell'immagine stessa possano farlo in modo immediato. Le immagini comunicano tantissime emozioni, sono molto più che non le parole, proprio perché istantaneamente, attraverso l'impatto bidimensionale che hanno nei nostri occhi, possono comunicare un messaggio molto profondo che ci colpisce e che ci fa capire quello che la persona che utilizza l'immagine voleva dire. Questo tipo di coinvolgimento quindi può essere utilissimo in un ambito comunicativo che riguarda tutto quanto vogliamo possibilmente dire, sia con gli strumenti di internet che anche attraverso i metodi tradizionali. Che cosa è successo recentemente? Che attraverso internet è stato possibile accedere velocemente ad un numero molto elevato di immagini. Con Flickr per esempio è possibile ricercare attraverso le parole chiavi, i cosiddetti tag, numerosissime immagini che appartengono ad un particolare ambito, che riguardano l'oggetto che stiamo ricercando o appunto l'emozione e il messaggio che vogliamo comunicare. La cosa interessante è che attraverso l'utilizzo proprio delle licenze Creative Commons è possibile individuare immagini il cui copyright è stato inquadrato in modo da permetterne un utilizzo molteplice, non solo attraverso il copyright tradizionale che richiede la necessità di un permesso esplicito da parte di chi ha scattato l'immagine per un suo riutilizzo, ma attraverso appunto un permesso dato a priori per certi tipi di utilizzi. Questi possono essere utilizzi magari non commerciali o addirittura l'autore può permettere anche utilizzi commerciali. Quello che l'autore di un'immagine licenziata sotto Creative Commons richiede è che venga dato credito a lui appunto in quanto autore. A me personalmente è successo più volte che un'immagine ripresa da me sia stato poi utilizzato da altri ed è stato qualcosa di molto molto bello, molto simpatico. Questo tipo di riutilizzo è stato possibile proprio perché avevo dato una licenza Creative Commons alle mie immagini. ho avuto modo di riprendere per esempio l'isola di Birkja vicino a Stoccolma in Svezia che è stata inclusa poi come immagine all'interno di una guida della Svezia. Oppure addirittura ho avuto due mie fotografie riprese con Daniel Dennett e con Eric Drexler l'altra. Il primo è un filosofo importante per lo meno secondo me tra i più importanti filosofi moderni e il secondo è l'inventore della moderna del moderno campo della nanotecnologia. Entrambe queste immagini non solo state semplicemente riutilizzate ma anche ritagliate per giustamente eliminarmi dal quadro perché non c'entravo e anche poi sono state utilizzate come illustrazione per gli articoli di Wikipedia su questi due personaggi importanti.